Non appare soddisfacente l'azione rivolta al contenimento dei costi di funzionamento relativi alle società partecipate. La Corte dei Conti Bacchetta, la Camera di Commercio di Agrigento, così come tutti gli altri enti camerali siciliani. Nello specifico i magistrati contabili si erano concentrati sulla dismissione delle numerose partecipate delle Camere di Commercio dell'Isola che è previsto dalla normativa vigente che impone la liquidazione di tutte le società di cui le Camere di Commercio hanno partecipazione che si rivelano però società non necessarie. In totale Agrigento possiede azioni in 15 società delle quali 7 con partecipazioni dirette in percentuale irrisoria ovvero sotto l'1% e 8 in forma indiretta, anche queste dicono i magistrati contabili, tutte di carattere infinitesimale. Il piano di razionalizzazione realizzato dalla Camera di Commercio di Agrigento prevede la dismissione di 5 partecipazioni scelte per l'assenza del carattere di indispensabilità ovvero lo svolgimento di attività analoghe o similari rispetto a quelle già svolte da altre società. La relazione secondo la Corte dei Conti è tuttavia priva di un eventuale svolgimento di un'analisi di carattere economico finanziario al fine di comparare i costi e di benefici realizzabili ovvero manca la valutazione di prospettive alternative alla vendita e un eventuale rapporto vantaggi costi. Si deve altresì rilevare continua la relazione della Corte che non appare soddisfacente l'azione rivolta al contenimento dei costi di funzionamento relativi alle società partecipate dal momento che la relazione tecnica a tale specifico riguardo rimmia a indirizzi e direttive in corso di formalizzazione verso le società non dismesse e nei confronti delle società partecipate indirettamente. Ma non solo, anche le società che si puntava a dismettere sono oggi rimaste sul groppone della Camera di Commercio perché i bandi ad evidenza pubblica sono andati deserti anche in ragione della modesta consistenza delle quote da alienare.